Mentre gli altri giganti vanno nella notte a ingossarsi di tutti i popoli, io soffio nelle vostre camerette. Fate i sogni! Sogni davvero? Belli sogni! Tu sai cosa vi piacerebbe? Cosa? Dio vorrebbe trovare il modo di fare scomparire ognuno di loro. Ehi tu nanetto dove vai? Tu piccoletto forse cerchi guai. Tu nanetto dove vai? Forse, forse cerchi guai. Il dame al barattolo, io lo appallò. E' un po' che non sa' così chi fa. Adesso si sta zitti come Toppolini. Toppolini! Un barattolo presto! Un barattolo presto! Presto! Il capo del barattolo! Damelo! C'è un po' che sicurezza, solo un alto grande muro che non si può scavalcare con una normale altezza. Ma per lei che è un gigante, beh per lei è una sciocchezza. Mi sto i sogni come se le faccio in cucina. Mi sto i sogni che deve sognare la regina. Ti punti ma se ci sanno il papà che rinaggia, si tratta di carri anni, rinaggia, si tratta di carri anni, rinaggia, si tratta di scuola. E tu chi sei? Maesta, la faccio cagliar via. No, Mary, aspetta un attimo. Ma come, ma come, voi la conoscete qua? Qualcosa in testa, ma non ricordo bene. Ben arrivati, vi hanno messo al corrente. Sì, maesta, la notizia è sconvolgente. Allora che mi dite? Avete in mente un piano? Sì, coi candoni, lì bombardiamo. No, vai, per favore, non scherziamo. Dove diavolo siamo? Non è ora più balli l'idea, ma è divertente scoprire luoghi sconosciuti. Che cosa intendi? Che sconosciuti? Il posto che stiamo sorvolando ora non si può... Non mi può storciglionare! Non ci posso credere, ce l'abbiamo fatta. C'è quello detto? È un piano fortissimo! Si torna vincitore da sua mistrata!